3 luglio il presidente degli Stati Uniti atterra un lottatore che ha al posto della testa il logo della CNN. Chi ha messo in rete il video? Donald Trump. I giornalisti si meritano questo trattamento così si comporta un presidente del popolo. Bizzarria? No. È l'epilogo miserrimo di una concezione che ha sostituito alla politica, cioè analisi, scelte e programmi, l'elezione plebiscitaria di un capo che quanto più prometta di annichilire i parlamentari, i giudici, i giornalisti, i professoroni, tanto più dovrebbe piacere al popolo gregge. Non vi chiedo di condividere un punto di vista ma di rifletterci su. Io penso che se la casalinga, se lo studente che consegna la pizza, la quarantenne in carriera, il pensionato, discutessero di più, di Europa, di salario universale, di misure efficaci contro la corruzione, di imposte davvero progressive, insomma se facessero più politica ci sarebbe meno bisogno dei vaffa di Grillo, dell'odio di Salvini, della rottamazione di Renzi e dei tweet contro i giornalisti del commander in chief. Oggi Corriere della Repubblica sostengono che Minniti avrebbe strappato un accordo sui migranti al prevertice dei ministri dell'interno con Francia e Germania. Pare di capire che alle navi delle ONG sarà chiesto di non spingersi all'interno delle acque libiche. Se i barconi dovessero affondare laggiù non sarebbe affar loro che alcune di queste navi potrebbero forse dirigersi altrove, ma bisogna capire dove perché le leggi del mare parlano del porto più vicino e non sono più vicini i porti di Spagna e di Francia semmai lo sono quelli di Tunisia e di Malta. Infine Francia e Germania ribadiscono a parole che una parte dei richiedenti asilo dovrebbe poter partire dall'Italia verso altri paesi europei, anche quelli dell'est che non vogliono un solo migrante. Altro, la Merkel impegnata in campagna elettorale, Macron che non vuole rovinarsi la luna di miele con un'altra calè, non sono disposti al momento a concedere. Anche sull'immigrazione non vi chiedo di condividere ma di ascoltare. Io credo che sarebbe giusto e realista dire a voce alta che ogni uomo abbia il diritto di mettersi in viaggio per sfuggire alla morte, alla dittatura, alle guerre, alla siccità, che l'Europa avrebbe il dovere di accogliere naturalmente combattendo le conseguenze destabilizzanti con le armi del diritto, espellendo chiunque commetta un reato e con le armi dell'economia, per esempio investendo in Africa perché è probabile che la maggior parte dei migranti preferisca, se qualora lo potesse, rimanere a casa sua. Infine la politica italiana. Trovo che abbia ragione Stefano Folli. In doppio petto, al funerale di Col, Berlusconi si è invitato al tavolo della nuova Europa con Macron e Merkel. Renzi, che ha rotto a sinistra, non potrà che accodarsi. Questo naturalmente se i Cinque Stelle non vincessero le elezioni perché allora il quadro sarebbe tutto diverso. Trovo che abbia ragione anche Massimo Giannini quando definisce parole sante quelle dette a Milano da Renzi. Parliamo di temi concreti, non di alleanze. Purtroppo è proprio il PD ad ignorare i temi concreti e cominciare dagli 85.000 giovani naufraghi, la prosa è di Giannini, aggrappati a una scialuppa di 30 posti di vice assistente in Banca Italia per continuare con i 4.600.000 poveri assoluti, con gli 8.300.000 poveri relativi, cioè con 700 euro al mese. Il PD bolla come irrealistico e assistenziale il reddito di cittadinanza, proposto anche dai Cinque Stelle, che in effetti costerebbe 17 miliardi, ma non troppi di più di quanto non ne spenderemo per le banche. Cosa propone Renzi ai giovani e ai disoccupati? Che mangino, che studino, che si spostino con i numeri della slide di Poletti? Hanno ragione, trovo anche i molti che a sinistra stanno dicendo che il discorso di Pisapia a Santi Apostoli era un esercizio di equilibrismo, neppure troppo abile. Ma io credo che la realtà vada letta all'incontrario. Sono Pisapia, Boldrini, gli scissionisti di Selle alla Scotto che hanno ingranato la marcia indietro. Inseguivano la chimera di un'alleanza con le primarie nel campo del PD. Respinti sono stati costretti a dire che si vogliono presentare all'elezione con una lista alternativa al PD. E questo ha portato il ministro Orlando prima in Piazza Santi Apostoli, poi a minacciare un referendum contro l'alleanza con Berlusconi, mentre Franceschini si ribella magari solo per ottenere qualche posto in più come capolista. Renzi fa il burlo ma poi preoccupato si confessa con la Meli e dice che tutto è la conseguenza di un complotto di D'Alema. Cari Montanari, cari Civati, Falcone, Fratoianni, Marta Fana, mi rendo conto che non ci siamo abituati ma siamo noi i più forti, siamo noi che dovremmo imporre in campagna elettorale questi contenuti tabù per la fabbrica dello spettacolo, per la politica alla Trump. Noi che non dovremmo avere paura delle alleanze con chi alla fine ha capito che non c'è alternativa a presentarsi con una lista che sfidi da sinistra il PD. Buongiorno.